amici miei bentornati qui su mandragaming il canale con più fusibili sul tubo fusibili perché sì ce ne abbiamo due siamo praticamente degli elettricisti in questo gioco non finiremo mai più di prendere dei fusibili e abbiamo dovuto ok si è sminchiato il mouse abbiamo dovuto buttare di tutto ragazzi abbiamo dovuto buttare di tutto per portarci questi fusibili appresso ok non c'eravamo neanche più armi vero tipo se facciamo uno tre no 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 è finito tutto non ci abbiamo più nemmeno munizioni oh chi è nemmeno più munizioni raga assolutamente niente speriamo di riuscire ad arrivare a quella cavolo di metro per poter mettere i due fusibili e continuare la nostra adventure che so sti passi pieni di sangue qua ma io non posso essere perché vedete cammino e non c'ho passi di sangue passi di sangue poi non si può sentire passi di sangue e non mi ricordo più tosta la metro raga sono onesto non mi ricordo più tosta attanto guardate che chi è chi è tranquilli che se questa è la strada giusta ci lo faranno capire subito comunque non vi preoccupate non vi preoccupate vediamo un po 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 io non ho paura amici no 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 assolutamente no io ho paura di cry of fear ma quando mai penso che non sia mai successa sta cosa mamma mia tutte porte chiuse e la 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 e la pa 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 e pa come cazzo si torna indietro pam avevo paura di quella porta perché era più oscura ah sì 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 ah vedi che ho scullato ho scullato nel senso che quello era il pullman dove poi scavalcando potevamo andare dall'altra parte peccato che non ci si può andare a un po Sì, 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 ok Ok, amici, ok Che culo, abbiamo sculato Ah, ok, qui eravamo già andati oltre il pullman Quindi Dobbiamo tornare indietro Vediamo un po' qua se c'è qualcosa di interesting Ok, nessuna traccia di lotarina, amici Quindi siamo a posto Vuol dire che il pericolo non è in agguato Quindi proseguiamo Vediamo un po', vediamo un po' Era qua il metro, no? Era qua, tornando indietro C'è nessuno? No Allora, qui c'era il parco Dove c'erano i mostri giganteschi Non c'era però la metro Non c'era, mi sembra di ricordare che la metro non fosse lì Quindi torniamo indietro, amici Torniamo indietro Ok, qui era questa Dimmi che ho sculato Dimmi che ho sculato No, 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 no Però, però, però Passando da qui Passando da qui Potremmo tagliare Mamma mia, tutto sto casino per entrare dentro una metro Ma secondo me è normale Cazzo, voi quando entrate in una metro sentite Allora, allora, allora Vabbè, lì sì, lì c'ero io Buonasera, dottore Buonasera Attaci, tu asetta chiappo Te faccio Aspetta, te faccio Che vai a strappare la faccia in giro a tutti quanti Che t'era qua? Ah, sì, sì, ok Qua c'eravamo già passati Benissimo E... Ah, sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta Che era qua dove dovevo mettere i fusibili? Sì, 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 sì Ok Vabbè, qui mi rifai vedere il pezzo Io sto giro desarto perché L'ho già trovato i fusibili Uno Oh Olè The fuse is placed Ok Il mouse è sminchiato E adesso anche quest'altro Oddio, raga Mamma mia, raga Paura Ho tanta paura Paura E... Oh, io ste clippe Me ne pio tanto una Ok Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Salviamo perché è cosa È cosa buona Buona e giusta, fratelli Quindi salviamo Ogni volta che facciamo una minima cazzata Ci si sminchia il mouse E... Allora, 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 allora E io infatti giustamente Ci entro ogni due secondi Perché mi sembra anche giusto Ma le munizioni non erano per questa, vero? No, mandra Non erano per questa Quindi tu sei ancora Senza Un'assoluta No, no, no Che mobile phone battery? Cioè, già ce l'abbiamo Cico Cico, 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 via Droppa, droppa Ok, ci hai sminchiato il mouse Ok Ok, perfetto Ho sentito un cane Un cane malefico? No No Non mi... Non fare scherzi Piano Scendi piano Ma che cazzo Ma ti pare il modo Di scendere i miei scale Guarda che ti faccio morire Mezzo di merda Ok, questa c'è La porta non si vuole aprire Benissimo Ah Tacci tua, sparate Suicitate, maledetto Ma hai spaventato Ma hai spaventato Cattivo Ma hai spaventato Io sento ancora sto cane Comunque Cane Pistolino Vaffanculo Dai, avvicinati Avvicinati Bravo Suicidati Suicidati Bra, bra Hai fatto il tuo dovere Ok, grazie per le munizioni Lì credo ci sia un altro stronzone Con la pistola Eh, mazza che occhio Che c'ho Vieni, vieni Vieni Suicidati, amico Vieni qua Non ti avvicini Vabbè, io non mi avvicino Figurate se mi avvicino io No, no, no No, no Brutta metro Aspetta, aspetta Amico Buf Ti sei spaventato, eh Ok Vediamo un po' Che ci abbiamo Che è un uomo depresso The mod team Eh, le deadline Eh, ti distruggono Ok Non riesci a trovare i drive Per finire il tuo lavoro Ma che cazzo Ok Non lo so Sarà estremamente qualche battuta Che il mio inglese Macaronico Non è in grado Di comprendere Eh Amico Dai, dai, dai Sparate, sparate Dai, su Bravo Bravo Decisione giustissima Eh, dobbiamo risalire da qua A noi non è Non siamo noi Non c'erano le scale centrali Cane Non dimenticarti Cane Che io ti ho sentito Passi metallici Chi è? Nessuno Perché il silenzio è finito? Sto Sto muro Dietro c'è una porta Questo muro Sembra che possa essere distrutto Ma io lo lascio così No, no Macchinetta Un buon caffè Per favore, grazie No Oh, cazzo Mi ce fa entrare Fuck Shit No, però Mi intrippa troppo Quella porta Mi intrippa Mi intrippa Mucio Ok, ok Andiamo armati Del nostro manganello E distruggiamo il muro No, vabbè Non si può distruggere col manganello Ma io pure io illuso Che posso Pensare di poter distruggere un muro Col manganello Ah, vabbè Scusate Errore mio Dai Lo sapete Che sono un povero Un incoglionito Che cosa Questa è una metro O Cioè, no Non ho mai visto una metro Così complicata Chi è? Cucù Una metro Finalmente Si può entrare in metro Amici Forse Il treno per Norcastle Ha segnali Di mal funzionamento Per favore Pulite la piattaforma E aprite E gli cancelli Questo treno Non è per uso pubblico Stay beef Ok? Un attimo Allora Porta Tutte No, porta entrambi i fusibili Dalla blue line Per scappare Voglio i miei piedi indietro Io Non ho i tuoi piedi Amico mio Mi dispiace Non ho i tuoi piedi Io Per sicurezza salvo Perché La preoccupazione è sempre dietro l'angolo Amici Non vorrei che mi succedesse qualcosa Si è sminchiazzato il mouse Non ho i tuoi piedi Guarda Ti prometto che Se li trovo in giro Per la metro Te li rimetterò Dentro quella Quella valigetta Perché Mi le hai chiesti in maniera Simpatica Umana E molto molto cortese Certo L'hai scritto col sangue E non Come dire Non è una pratica Molto Diffusa Ma Potresti essere Una seminchiazzata Una seminchietta Una smorfia set Per noi Ok Ok Ho capito Devo andare verso là Oddio Altri fusibili Ma come Come faccio adesso Secondo voi A prendere L'altri fusibili E A tornare qui Scendo qua sotto Che era da dove Sono salito poi Vero? Sì Oh Non ti addobbata solo Che mi fa venire paralisi Che faccio? Qua chiuso Qua pure Qua sopra Non ci si può andare Dentro la metro Abbiamo già fatto Quello che dobbiamo fare O almeno Quello che potevamo fare Finora E Tornavo indietro Raga Io pensavo Che quei fusibili Ti avrebbe proprio Concluso la storia Invece no E E E quel muro Raga Devo distruggere Quel muro In qualche modo E Ma non ho Cioè io Granate Non ne ho incontrate Finora Non è che Dici sei Sei munito De granate Sto muro Io lo sbranchi Allora io ci sparo Un colpettino Un altro E un altro Basta No Non ne spreco più No 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 E no Basta No Evidentemente Si deve distruggere In altri modi A meno che la soluzione Non sia Che noi ci dobbiamo Tagliare i nostri bebedini E metterli dentro Quella valigia Ma non credo ragazzi Che questa possa essere La soluzione Quindi Dobbiamo trovare qualcosa Per distruggere Quel muro Ehm Una tartina Gli tiriamo una tartina Le leggendarie tartine D'acciaio Di Cry of Fear No Non credo Esista Non è meno Stiamo risalendo La stessa zona Ok No 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 Ok Ok No Non era qui Come cazzo si tornava indietro Amici Ecco ecco si Era qua Era qua Era indubbiamente qua Ma non c'era un'altra porta Da No 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 Non credo di aver saltato Nulla Ehm Se si riviamo i fusibili Ci si chiuda la porta Ehm Il mouse Ci si è sminchiato Ah che bello Non ci possiamo più muovere Ehm Siamo Ragazzi Non mi potevo più muovere Ehm Qua invece si Lui dall'altra parte No Guarda Ehm E niente Raga Ehm No 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 Ehm 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 Non so come fa Ehm Che mi invento Raga Se qua c'è da tornare indietro Il bug non mi permette di muovermi Ehm È finita Perché Come facciamo ad andare avanti Ah ok Dovamo prendere sta chiave Inutile Ehm Ma i fusibili qua Non si raccolgono più eh Allora io questi li butto Perché tanto non ne ho bisogno Si è smincato il mouse Ehm Ehm E no Non li posso prendere Non li posso prendere Quindi Che mi documentiamo? E io i fusibili E altri fusibili Non ce l'ho A meno che non mi serva la pala Mi può servire la pala? Con una pala Oddio per me sarebbe difficile uguale Però Potrebbe essere sicuramente più veridiero Una pala Sì 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 Ehm Una pala Una pala La ritrovo Ehm La pala La ritrovo Uscendo da qui Hai spaventato un'altra parta Tetemi una pala Che mi taglio le vene Rapapapapapapapapapapa Non era proprio una pala Ma Fa niente Oh 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 ho Ah bello Ah no aspetta Non stava qua La pala Forse stava Stava da quest'altra parte Oh Oh Yeah Allora vediamo qua Pala Pala domanda sono stato abbastanza clear eccola dai che è questa la soluzione mandra dai che il tuo spavillante intelletto ce l'ha fatta anche questa volta ma non è che il cane sta qua dietro vediamo un po' se c'evo ragione merda no no l'ho già detto no cazzarola ragazzi niente niente amici miei purtroppo non era nemmeno questa la soluzione e non t'ha addorbare e quindi amici miei io purtroppo mi dispiace di non essere riuscito a sbragare quel muro quindi se non ricordo male qui all'interno c'era un sabateche quindi amici miei io salvo di nuovo per sicurezza ragazzi se il video vi è piaciuto un bel pollicino in su amici miei io vi rimando al prossimo video vi consiglio di condividere mantra gaming amici miei io vi auguro una buonissima giornata e vi rimando di nuovo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao